Dopo l'annuncio fatto dalla azienda sanitaria teramana delle 48 assunzioni a tempo determinato, i sindacati di CGL, CISL e UIL lanciano una provocazione. Ospedali meglio chiusi che senza personale. Chiaramente si tratta di una provocazione per smuovere un po' le acque e denunciare la circostanza che ormai da anni Teramo soffre di questa grave carenza di personale. Il personale che è altamente professionalizzato. Se Teramo deve finire sui giornali deve continuare a finire sui giornali per l'eccellenza teramana della medicina teramana. Ciclicamente appaiono sulla stampa operazioni innovative. C'è l'eccellenza, c'è la professionalità ma c'è anche l'usura del personale che non ne può veramente più. Abbiamo scritto nel comunicato quale azienda pubblica o privata può fare a meno di 200 medici, circa 40 infermieri e circa 160 os. Mi dica lei, bastano 4-5 malattie per mettere in crisi un'intera struttura. Il problema dei problemi è il personale. Non si risolve, anche se con buona volontà da parte della governanza teramana, non si può risolvere facendo una proroga di tre mesi del personale temporaneo, assumere per qualche giorno personale somministrato. Il toro va preso per le corna e Teramo deve essere posta in grado di funzionare in maniera ottimale, facendole poter esprimere tutta la potenzialità e la professionalità di cui dispone. La provocazione arriva oggi dopo diversi tentativi a livello di colloquio, ma abbiamo fatto anche diversi comunicati stampa. Nell'ultimo comunicato stampa denunciavamo tutti gli altri problemi che affliggono la sanità teramana, di cui la mancanza di personale è la punta dell'iceberg. Si pensi alla chiusura del punto nascita, si pensi alla probabile, noi ci opponiamo con tutte le nostre forze esterne all'iniziazione dell'Adi, quindi tutta una serie di problemi che affliggono la sanità teramana, ma il problema dei problemi è la mancanza assoluta di personale. Non è possibile condurre un'azienda con 600 persone in meno. Stiamo parlando di salute, non stiamo parlando di un'industria manifatturiera, stiamo parlando della salute dei cittadini. All'azienda sanitaria teramana mancano infatti 200 medici, 240 infermieri e 160 operatori sociosanitari.